Questo magari è altro più divertente, è un uovo da 8 kg che ha una dimensione abbastanza importante, se lo vedete posizionato lì, questo uovo viene fatto come un'incarta prima, una volta l'incappato totalmente a mano ci volevano 3 persone per poterlo fare, vedete la dimensione della carta o comunque facendo la macchina c'è bisogno comunque di 2 persone perché la carta è molto grande. Vi siete divertiti con Francesco? Perché tu mi hai fatto vedere il cioccolato, mi hai fatto vedere una cosa che vi piace, che ci piace, eh? Buono cioccolato! Ma, ragazzi, il cioccolato notoriamente, insomma, fa cambiare, e qui viene il bello. Io dovrò, in questo quarto d'ora, farvi capire che, accanto al piacere di mangiare cioccolato, purtroppo, se vogliamo continuare a mangiarlo con lo stesso piacere, imparare quelle poche manovre, ma essenziali, per mantenere intatta la nostra vita. Grazie.